buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 12 luglio 2024 vediamo subito i santi del giorno abbiamo tante tante notizie come sempre sui giornali questa mattina non sono notizie particolari perché siamo prossimi al weekend quindi ci sono molte manifestazioni di grande importanza in diversi centri della provincia ne parleremo in seguito ed ora vediamo appunto il santo del giorno sfogliando l'almanacco ce ne sono due oggi in programma sono i santi ermagora e fortunato di aquileia un centro romano di rilevante importanza che via via così diede poi origine a quella grande comunità di venezia che poi dominò tutto l'adriatico nel medioevo ermagora ermagora da armigero poi ermogene ermogene è un nome che si è protratto anche al giorno d'oggi fortunato invece è un nome che è tipico dell'epoca paleocristiana e poi anche nel medioevo fortunato non sappiamo però se quel fortunato di aquileia non credo che sia comunque così sia lo stesso del fortunato di fano perché fortunato è uno dei protettori e uno dei quattro protettori della città di fano insieme a san paterniano a sant'orso e a santa eusebio quindi fortunato è un nome che è tipico dei santi infatti sono fortunati beati loro ed ora passiamo alle previsioni del tempo ancora ancora molto caldo caldo su tutta la regione Marche tempo stabile solleggiato con temperature molto alte la minima 24 gradi la massima 34 con punte poi che sfiorano anche i 37 i 38 gradi e c'è molta fa c'è molta umidità quindi la percezione della temperatura in modo particolare quella avvertita dagli anziani superiore ai gradi effettivi i venti sulle coste spireranno da una direzione di sud est mentre nell'entroterra da sud ovest il mare è calmo il sole è sorto alle 5 e 35 e tramonterà alle 20 e 50 ed ora apriamo i giornali abbiamo oggi il Corriere Adriatico sulla nostra scrivania vediamo subito la pagina di fano ma l'apertura la vediamo che è simile con quella del resto del carlino sì perché ieri c'è stata un'importante riunione a fano convocata dall'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli il quale ha annunciato due bandi due bandi a favore dei comuni di grande rilevanza uno riguarda la sicurezza delle strade quell'altro invece riguarda la possibilità di accedere a finanziamenti per il restauro il consolidamento la cura delle mura cittadine pensate quante località della nostra provincia ma anche della regione hanno le mura antiche le mura storiche e sono beni questi da salvare perché sono un segnale delle identità martigiane del nostro territorio della nostra cultura ci sono oltre 7 milioni a favore dei provvedimenti che possano aumentare la sicurezza delle strade e non è solo l'asfaltatura anzi a questo proposito baldelli è stato preciso questi finanziamenti dovranno servire per realizzare piste ciclabili rotatorie camminamenti pedonali attraversamenti sicuri e pensate anche gli attraversamenti degli animali ci sono percorsi abituali che gli animali selvaggi seguono e quando attraversano arterie di rilevante importanza possono creare veramente incidenti stradali molto molto gravi con pericoli per loro stessi in quanto poi dopo muoiono e anche pericoli per le persone che in quel momento si trovano sulla strada alla guida di un autoveicolo quindi due importanti bandi che sono stati presentati alla presenza di molti amministratori locali c'erano molti sindaci molti assessori ieri nella sala della concordia per apprendere i particolari di queste di questi provvedimenti di queste risorse messe a disposizione della regione ci sarà anche una piccola partecipazione dei comuni che ammonta al 15 per cento per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti e aumenta al 30 per cento per quelli superiore ai 5 mila abitanti e insomma ora queste risorse ci sono bisogna farle sfruttarle al meglio e per quanto riguarda fano possiamo dire che abbiamo da sistemare il bastione sangallo bastione che risale all'epoca papalina siamo nel rinascimento quella volta c'erano i turchi da tenere a distanza e il papa realizzò questo bastione appunto per difendere la città e poi abbiamo le mura malatestiane dal punto dal lato della ferrovia mura che sono in degrado con i rampicanti che si inerpicano appunto sulle strutture murarie disgregando i mattoni quindi procurando diversi danni mentre le mura romane e le mura malatestiane quello che avanza dal lato di viale 12 settembre sono state restaurate ebbene qua invece ancora devono essere realizzati i lavori speriamo che magari facendo al più presto i progetti questi finanziamenti possono essere utilizzati vediamo ora gli altri articoli a fondo pagina abbiamo l'esito della tombola di san paterniano che ha veramente attirato una marea un oceano di gente in centro storico il 10 luglio festa del santo patrono tutto il centro era gremito di gente soprattutto poi dopo le 22 e 30 tutti si sono concentrati in piazza per l'estrazione della tombola e vediamo subito i vincenti innanzitutto dobbiamo dire che l'estrazione dei numeri è stata commentata da giacomo grandicelli coadiuvato da simona zonghetti che è la direttrice redazionale di fano tv quindi abbiamo anche la nostra rappresentante al posto di claudio gentili claudio gentili è stato il commentatore storico della tombola di san paterniano quindi c'è stata questa novità allora 250 euro della quaterna sono stati vinti da Ilaria Pizzichelli invece i 500 euro della cinquina da Mauro Bertulli e i 1250 euro della tombola sono stati divisi in due parti perché hanno chiamato tombola contemporaneamente due signore fanesi e sono Giordana Giommi e Doriana Morazzini i quali si divideranno equamente alla posta sono dei buoni spesa che possono essere spesi in tutti gli esercizi conad a livello nazionale e ieri sera è iniziata la fano dei cesari la fano dei cesari quattro giorni di rievocazioni storiche fano ritorna a essere l'antica fanum fortune colonia romana fondata dall'imperatore cesare ottaviano augusto le vestali hanno acceso il sacro fuoco a dire la verità l'ha acceso l'ha acceso il sindaco il sindaco Luca Serfilippi e lo vediamo proprio qui una bella foto pubblicata dal resto del Carlino mentre il sindaco accende con la fiaccola il bracere che arderà arderà in tutti i luoghi dove verranno fatte le ricostruzioni storiche per questi quattro giorni fino a domenica prossima 2000 figuranti parteciperanno alla sfilata di domenica ma intanto ci sono diverse iniziative anzi oggi veramente una giornata piena di rievocazioni storiche vediamo un attimo quelle principali oggi è il giorno della fano dei cesarini dalle 17.45 è previsto il raduno in piazza dove tutto il corteo dei bambini con le loro bighette arriverà fino al pincio i bambini saranno coinvolti in tanti giochi organizzati apposta per loro sono giochi originali si intitolano per esempio attenti ai galli, anfore della fortuna, sabbie del tempo, la corsa delle bighette la corsa delle bighette è una simpatica gara i bambini sono su delle bighette trainate non da cavalli, non da somari ma dai loro genitori e loro dovranno appunto correre per riuscire ad arrivare i primi al traguardo ma c'è anche un'iniziativa interessante dal punto di vista sociale ebbene la corsa delle bighette con delle bighette speciali potrà coinvolgere anche i bambini disabili le cui carrozzine potranno entrare nel contesto delle bighette e quindi potranno partecipare come tutti questa è una bellissima iniziativa e poi ci sono ricostruzioni, ieri sera per esempio è stata inaugurata la ricostruzione a Palazzo San Michele di una domus, della fullonica, del macellum insomma della zona artigianale, gli antichi mestieri dell'antica Roma mentre nell'area del Pincio sono sorti gli accampamenti dei legionari romani tanti tanti sono le persone e le associazioni coinvolte nell'organizzazione di questa iniziativa che i fanesi devono sentire proprio, devono partecipare perché veramente l'affano dei Cesari è un momento di carattere sociale prima di tutto culturale lo è ancora di più e promozionale per il turismo della nostra città ma non solo l'affano dei Cesari oggi si parla anche di carnevale, non è tempo di carnevale non si farà affano il carnevale estivo come nei tempi passati già Fano è molto ricca di manifestazioni porne un'altra in più, sarebbe veramente eccessivo ebbene però c'è una notizia che interessa i carnevali perché la Regione Marche ha approvato, il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la legge che finanzia con 100.000 euro quest'anno, 150.000 il prossimo anno e 50.000 nel 2026 i carnevali storici, i carnevali che da minimo di 30 anni si svolgono nel nostro territorio un'iniziativa iniziale prevedeva 50 anni però insomma dopo qualcuno ha voluto aumentare inserire anche il carnevale della propria località nel finanziamento e quindi la redazione definitiva della legge si è attestata sui 30 anni ebbene sono risorse comunque importanti la Regione riconosce il valore di queste manifestazioni per l'economia del nostro territorio e quindi viene finanziata opportunamente ed ora andiamo nell'entroterra andiamo a Cagli dove il Corriere Adriatico ci informa che verranno realizzate nuove tubature per rinnovare la rete idrica sono tubature per oltre 2 km ma i lavori verranno effettuati non soltanto a Cagli ma anche ad Acqualagna e Macerata Feltria la Multiservizi investe 660 mila euro e poi una notizia di cronaca che proviene da Marotta ebbene sembra che la riviera Adriatica sia veramente una riviera molto focosa in questi ultimi tempi ricordiamo l'aggressione che è venuta a Torrette ed ora c'è un'altra aggressione che è venuta a Marotta due persone sono state accoltellate da un giovane e le vittime hanno 24 e 25 anni il giovane sembra che ne abbia anche di meno addirittura 18 anni accoltellati in Viale Carducci due giovani finiscono in ospedale in gravi condizioni è successo l'altra notte alle 4 della notte in una traversa che conduce al sottopasso della stazione ferroviaria sul lungomare di Viale Carducci i testimoni hanno visto arrivare due giovani che erano sporchi di sangue a un certo punto questi sono crollati perché veramente si sono debilitati per le ferite riportate è stato chiamato subito il 118 sono arrivati i soccorsi e poi i due giovani sono stati ricoverati all'ospedale uno addirittura all'ospedale di Torrette di Ancona quindi la situazione è piuttosto seria ora gli impirenti stanno visionando le telecamere per evidenziare per cercare di trovare per capire la dinamica di quanto è avvenuto e poi un'iniziativa interessante per quanto riguarda lo sport ebbene Davide Mazzanti il grande coach della nazionale femminile di pallavolo ebbene ha tenuto una lezione alle ragazzine chiamiamole così sono ragazzine che hanno che sono nate tra il 2010 e il 2013 ebbene hanno ricevuto una lezione di grande di grande tenore di grande prestigio da un commissario tecnico che ha portato l'Italia a livelli mondiali della pallavolo vincitore ben di tre scudetti e poi anche di traguardi a livello internazionale la lezione è avvenuta a Marotta con grande suggestione grande emozione da parte delle allieve e ovviamente noi lo comprendiamo Senigallia Senigallia ha incidenti stradali vittime soprattutto i pedoni pedoni come birilli addirittura l'estate è da brividi donna e un bimbo di tre anni sono finiti all'ospedale il piccolo è stato investito in piazza Saffi dove c'è la ZTL la 39enne invece la donna è stata travolta da uno scooter sul lungomare Italia il bimbo dopo le prime cure per fortuna è stato trasferito solo in codice giallo all'ospedale di Senigallia poteva veramente andare peggio dove è stato trattenuto in osservazione la donna anche lei senigalliese è stata invece trasferita in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette i rilievi di questi incidenti sono stati effettuati dalla pattuglia della polizia locale e la dinamica è ancora al baglio si cerca di capire veramente che cosa è accaduto ancora cronaca la ribalta a Senigallia con la lite rispetto alla fidanzato una persona di origini marrocchine è stata fermata dai carabinieri la lite ha avuto un alterco veramente al di fuori delle righe per cui a un certo punto l'uomo ha scaraventato la donna contro un'auto in sosta però sembra che non vengano presi i provvedimenti al momento se la ragazza la sua ex fidanzata o fidanzata ancora lo denuncerà vedremo come andrà a finire vediamo le pagine invece di Pesaro dove è stato inaugurato un macchinario di grande di grande importanza all'ospedale San Salvatore di Pesaro una tac che viene manovrata con l'intelligenza artificiale inaugurata appunto all'ospedale lo stanziamento di oltre mezzo milione di euro e veramente questa tac potrà fornire delle immagini ad alta precisione quindi è un esame che viene compiuto ad alta qualità lo hanno presentato il responsabile del reparto o del reparto di diagnostica per immagini di Pesaro e Fano che è il dottore Alberto Rebonato insieme all'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini caldo caldo fa tanto caldo il caldo torrido non molla e sarà un picco nel prossimo weekend pronto soccorso sempre monitorato ebbene bisogna stare attenti perché il caldo può creare grossi problemi in modo particolare alle persone anziane bisogna proteggersi dal caldo non uscire durante le ore centrali della giornata rinfrescarsi bere molta acqua insomma sappiamo quali sono i consigli che vengono diramati in queste occasioni e poi abbiamo un incarico prestigioso per il sistema giudiziario locale e quello assunto da Lorena Mussoni che ha assunto la presidenza del tribunale di Pesaro questo incarico è un doppio onore ha dichiarato sono da sempre innamorata di Pesaro ebbene Lorena Mussoni ha iniziato la sua carriera nel sistema giudiziario a Caltanisetta poi è stata trasferita a Pesaro nel 90 come sostituto procuratore poi giudice civile penale a Rimini e Ancona poi di nuovo a Pesaro e qui appunto è rimasta ed ora concluderà la sua carriera nel sistema giudiziario come presidente del tribunale una carriera veramente prestigiosa ed ora passiamo all'esame del resto del Carlino il resto del Carlino l'apertura abbiamo visto la notizia che riguarda l'affano dei Cesari che è stata inaugurata ieri e ora procede con tante tante iniziative veramente molto suggestive l'apertura è quella della presentazione dei due bandi da parte dell'assessore regionale Baldelli e vediamo ora invece le altre notizie anche questa l'abbiamo monitorata notte di sangue a Marotta due giovani accoltellati accaduta nella centralissimo nel centralissimo viale Carducci parallelo al lungomare invece questa notizia è nuova la pubblica il resto del Carlino un avvocato affano si è barricato in casa e picchia un infermiere del 118 è accaduto nei giorni scorsi e non è chiaro il motivo della furia non viene reso noto il nome di questo avvocato ma si dice che è un avvocato molto conosciuto un professionista conosciuto specializzato in diritto penale che mai prima di quel momento aveva creato problemi esistenziali e insomma probabilmente è stato colto da un attimo di furore possiamo chiamarlo però insomma tutto quanto poi viene ridimensionato allora che cosa è accaduto è accaduto che a un certo punto questa persona ha cominciato a urlare si sentiva un fracasso i vicini hanno udito delle urla hanno sentito dei rumori dei rumori non giustificati tanto da chiamare le forze tanto da chiamare il 118 il 118 sembra che dalle ricostruzioni l'avvocato avesse iniziato a dare in escandescenze con qualcuno al punto che è stato necessario allertare anche i sanitari del 118 così scrive il giornale alla vista dei soccoritori però la persona si è barricata in casa non voleva uscire non voleva fargli entrare poi alla fine loro sono entrati a un certo punto sembra che sia stato aggredito anche un infermiere lui ha tentato la fuga poi è stato fermato insomma la cosa poi è finita lì vediamo anche la pagina dedicata ad Urbino dove da qualche giorno è tornata alla ribalta la discarica di riceci sinistra per Urbino non si fida più ebbene a questo punto parla Francesco Veterani che fa delle domande precise per quanto riguarda la soluzione di questo problema che ancora è così in itinere la discarica a riceci o in qualche altra zona da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali è un progetto vivo e vegito che la vecchia politica non ha saputo contrastare e quindi occorre tenere gli occhi ben aperti e le orecchie ben in sintonia per vedere che cosa accadrà invece a Cagli no scusate a a Sant'Angelo in Vado a Sant'Angelo in Vado è caduto un fulmine sul campanile della cattedrale campanile della cattedrale di Cagli culmina con un angelo ovviamente Sant'Angelo culmina con un angelo è proprio il simbolo il tipico della città di Sant'Angelo in Vado ebbene questo fulmine ha minato un po' il basamento dove è fissato l'angelo e qualche mattone si è staccato oppure un altro sembra che sia non molto stabile ecco perché i vigili del fuoco hanno tentato di arrivare sulla sommità di questo campanile ma ieri non ci sono riusciti oggi ci vorrà un'altra scala un'autoscala in grado di raggiungere maggiori altezze per monitorare un po' la situazione della cuspide delle campanile e ovviamente correre ai pari se ci sono dei problemi a questo punto abbiamo terminato la nostra rassegna stampa come sempre vi do appuntamento a domani alle 7 e per le notizie del giorno alle ore 20-30 di questa sera con il Tg Occhio alla notizia di Fano TV grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.